Continuità lavorativa e sicurezza economica per i lavoratori. Sono le parole e le precisazioni di Maurizio Crivellari, presidente della Quiki Group, società con sede a Como che dal prossimo primo giugno gestirà le attività dello stabilimento Avon di Anagni, dove i dipendenti sono in sciopero da diverse ore. Voglio rassicurare tutte le persone che oggi lavorano all'interno. La nostra venuta, oltre a permettere a questa attività di restare in Italia, vuole anche essere un momento per investire ulteriormente e portare sul territorio un'attività di eccellenza nel mondo della logistica per tutto l'e-commerce. Dunque, Quikli è una società presente in Italia, è una società italiana, è sul territorio da tanti anni, abbiamo una sede a Como, una sede a Piacenza. Oggi arriviamo ad Anagni per investire, per dare continuità ai lavoratori e, oltre a questo, per assumere anche nuove persone. Dunque, il nostro piano industriale è nel lungo termine. Vogliamo e abbiamo bisogno di creare un centro di eccellenza, di logistica per tutto l'e-commerce e per il centro sud Italia. Abbiamo l'opportunità di Anagni, la vogliamo cogliere. Voglio dire alle persone, alle famiglie che lavorano all'interno, con grande serenità incontriamoci, sediamoci. Siamo pronti a darvi tutte le assicurazioni del caso. Sono un imprenditore italiano che è rientrato nel proprio paese per fare bene con le persone in Italia. Dunque, vogliamo costruire qualcosa nel lungo termine. Vogliamo dare l'opportunità a Quikli, che è un'azienda italiana, di espandere le proprie attività e di dare continuità per gli anni futuri per noi e per le nostre famiglie.